Musica Approvate a maggioranza dal Consiglio regionale le proposte di delibera per indire un referendum per chiedere l'abrogazione della legge sull'autonomia differenziata. Il premio David Sassoli per la miglior tesi di laurea arriva alla terza edizione, l'annuncio durante la consegna delle tesi pubblicate ai vincitori delle precedenti edizioni. Autonomia differenziata passano le richieste di referendum abrogativo della legge. Il Consiglio regionale ha approvato a maggioranza con voto a favore di PD Italia, Viva e Movimento 5 Stelle, voto contrario di Fratelli d'Italia, Lega, Forza Italia, Gruppo Misto, Merito e Lealtà, le due proposte di deliberazione presentate da Partito Democratico, Italia Vive e Movimento 5 Stelle, per l'indizione del referendum abrogativo della legge nazionale 86 del 2024 per chiedere l'abrogazione della legge sull'autonomia differenziata. Una prevede l'abolizione totale della legge nazionale, mentre l'altra, predisposta nell'eventualità che l'abrogazione totale non fosse ritenuta ammissibile, ne prevede l'abrogazione di un'ampia parte. Respinti invece due ordini del giorno presentati dal gruppo Fratelli d'Italia, che intendevano impegnare il Presidente e l'Esecutivo regionale a proseguire nel percorso di contrattazione con il Governo centrale in merito all'autonomia differenziata, rinunciando alla presentazione della richiesta di referendum abrogativo. Devo dire che la strada del referendum abrogativo è quella più giusta, perché siano i cittadini a decidere. Se vogliamo, come il fronte progressista vuole, un'autonomia, un regionalismo eco e solidale che dia alle regioni competenze, ma competenze che si esercitino distribuendo bene, in modo eco, le risorse, in modo che non vi siano squilibri fra nord, sud o all'interno delle stesse regioni, fra aree interne e grandi centri metropolitani. O invece si voglia un'autonomia che è chiamata differenziata, peraltro nella Costituzione all'articolo 116, terzo comma, non è mai citato il termine differenziata, che crea delle autarchie fra le venti regioni, ovvero quello che si ha poi si rimette e contemporaneamente quindi chi è più ricco sarà sempre più ricco, chi è più fragile ha bisogno poi di interventi forti dello Stato perché il meccanismo della ridistribuzione li porta a essere sempre più fragili. È stato un dibattito serio, un dibattito appassionato con punti di vista differenti, è evidente che l'autonomia differenziata spacca l'Italia, aumenta le disuguaglianze tra nord e sud, tra aree interne e grandi città, alla fine abbiamo 20 piccole Italie più deboli. Noi abbiamo chiesto ed ho lavorato in queste settimane insieme ai presidenti dei consigli regionali affinché ci fossero due proposte di delibera, una per abrogare totalmente la legge e una per abrogarla in parte. Noi sostanzialmente chiederemo ai cittadini e le cittadine del nostro paese di esprimersi perché noi vogliamo un'Italia che non lascia indietro nessuno, vogliamo costruire le condizioni per cui un bimbo che nasce nel borgo più piccolo di un paese del sud di un'area interna e abbia gli stessi diritti di un bimbo che nasce a Firenze. Il capogruppo del Partito Democratico, Vincenzo Ceccarelli, nel suo intervento in aula ha illustrato l'iniziativa intraprese e sottoscritta con Italia Viva e Movimento 5 Stelle. Noi riteniamo che questa sia una legge pasticcio che non risponde certo all'esigenza di far funzionare meglio i livelli istituzionali del paese. La nostra Costituzione parla di un regionalismo cooperativo e non competitivo. In questo modo, con questa legge che fa l'atto non ha stabilito prima i livelli essenziali delle prestazioni, non ha messo a disposizione risorse per riequilibrare le diseguaglianze che rischiano invece di aumentare fra regioni più forti e regioni più deboli. Noi rischiamo di creare in Italia 20 staterelli che sono insignificanti nei confronti di entità come l'Europa della quale facciamo parte. Dall'altro questa legge che risponde di più alle spinte un po' secessioniste di una forza politica che sta al governo va letta in un combinato disposto con l'altra legge che è quella sul premilato che invece risponde all'applicazione delle spinte diriciste di un'altra forza politica di destra che sta al governo, vale a dire quella di avere un capo dell'esecutivo eletto direttamente dal popolo e difficilmente controllabile sia dal Presidente della Repubblica che dal Parlamento che con quella legge vengono oggettivamente indeboliti. Quindi da una parte si spinge alla disgregazione, dall'altra si vuole creare il capo dei 20 staterelli che rischiamo di creare nel nostro Paese. È una legge dove si attiva una procedura senza però prendere in considerazione quello che dice la Costituzione, quello che dice il terzo comma dell'articolo 116 che ricordo regola le regioni a statuto speciale, la loro autonomia che è prevista da statuti che sono specifici e che vengono approvati da legge costituzionale. Poi abbiamo una legge ordinaria che darebbe tutta una serie di poteri alle regioni, però cosa c'è che non va in questa procedura? Non rispetta l'articolo 116 dove mi viene a dire l'articolo 112 e il terzo comma prevede ulteriori forme di autonomia, quindi delle forme che sono qualcosa di specifico, di limitato rispetto a quella che è l'autonomia delle regioni a statuto speciale e per di più ti dice ulteriori forme e condizioni particolari, cioè legate a quelle che sono le specificità dei territori. Quindi di conseguenza sì tutte queste materie, ma tu Stato, tu legge nazionale, mi devi prevedere i paletti, le regole per dare luogo a quello che ti dice il 116, non io ti autorizzo a intervenire su tutte le materie della normativa complementare. Mi dici in che logica entri e su quali materie tu puoi perché sono specifiche dei tuoi territori. Il Movimento 5 Stelle della Toscana voterà a favore delle due deliberazioni che promuovono l'abrogazione della legge sull'autonomia differenziata annunciato in aula alla capogruppo del Movimento Irene Galletti. È fondamentale in questo momento storico della Repubblica unire tutte le forze civili e politiche per evitare quello che è uno smembramento dello Stato italiano, perché questa è l'autonomia differenziata e con il combinato disposto del premierato diventa chiaro che non è utile al cittadino medio, toscano, come calabrese, come veneto. È utile soltanto a una compagine politica, quella che adesso sta governando il Paese, che desidera avere un controllo assoluto anche dividendo ulteriormente l'Italia. Faccio solo una riflessione che dovrebbe far riflettere tutti i governatori delle regioni, tutti i politici e anche alcuni del centro-destra che già si sono espressi contro. In questi anni, in questi decenni, si è investito molto da parte del Governo centrale per cercare di superare le differenze territoriali. Ancora oggi l'Unione Europea ci chiede uno sforzo ulteriore per superare le disuguaglianze all'interno di un territorio di respiro più ampio che è quello dell'Unione. Questa proposta di legge che è formulata nel modo più sbagliato possibile, addirittura senza ancora la formulazione dei livelli essenziali di prestazione non solo in sanità ma anche su altri aspetti, va esattamente nella visione opposta. Per il capogruppo di Italia Viva, Stefano Scaramelli, il centro-sinistra Unito in Toscana del Via Libera ha la richiesta congiunta di indizione del referendum popolare abrogativo dell'autonomia differenziata. C'è una valenza di natura politica, centro-sinistra è compatto, Unito si allarga, cresce in Toscana, difende le peculiarità della Toscana e la nostra autonomia è quella di indire e richiedere l'indizione di un referendum è un atto voluto dalla Costituzione, stiamo difendendo la Costituzione al cospetto di una norma voluta dal governo Meloni che fa contenta solamente la Lega, che divide l'Italia, che fa male alla Toscana, che differenzia in maniera eccessiva le normative per cui le regioni dovrebbero poi impegnarsi. Quindi è una difesa della nostra peculiarità nel farlo abbiamo il coraggio di assumersi una responsabilità importante e soprattutto di unire un fronte politico nuovo. Di occasione persa ha parlato il capogruppo di Fratelli d'Italia Vittorio Fantozzi, mentre il consigliere Capecchi ha illustrato le ragioni dell'utilità della legge. Avremmo sicuramente potuto affrontare l'opportunità che rappresenta l'attuazione di questa previsione costituzionale per un regionalismo compiuto finalmente, che avrebbe potuto perché no riaccendere anche qualche speranza civica e politica in questo Paese e anche in questa regione invece no. Ci troviamo inchiodati in un dibattito a seguito della richiesta del Partito Democratico di tentare il referendum su un tema che in realtà è stato accompagnato fino all'ultima legge quadro dalla sinistra di questo Paese, non soltanto Toscana. Sarebbe utile perché la Toscana ha sicuramente un'esperienza in materia di gestione dell'ambiente, dell'energia, in parte anche dal punto di vista dell'urbanistica piuttosto che della sanità e questa riforma aumenta i livelli di autonomia e quindi di gestione dei servizi più vicini ai cittadini e quindi con maggiore capacità di controllo, sia da parte dei toscani sia da parte delle imprese. Nel 2017 e nel 2018 l'allora maggioranza di centrosinistra della regione chiedeva alla propria giunta di attivarsi per avere più autonomia, cioè di attuare l'autonomia differenziata esattamente come previsto all'articolo 116 della Costituzione. È evidente che a sinistra sono in confusione perché se una cosa la fanno loro è buona, se la stessa cosa la fa il centro-destra, spacca l'Italia. La smania ideologica spesso può fare brutti scherzi, ha affermato Elena Maini, capogruppo in consiglio regionale della Lega, riferendosi alla richiesta di referendum contro l'autonomia proposta dal campo largo, ovvero PD, Italia Viva e Movimento 5 Stelle. Un centrosinistra che non capiamo se non ha letto la legge e quindi non ha sostanza su quelle due PDD che ci porta oggi all'attenzione dell'Aula o seppure ha timore che il Presidente Gianni possa tenere a sé una serie di materie come per esempio la geotermia, abbiamo visto come sta gestendo l'eventuale rinnovo delle concessioni o comunque la cultura, il tema dell'istruzione e del turismo. Quindi un silenzio quasi assordante, interamente composto dai consiglieri di maggioranza in Aula oggi. Noi ribadiamo invece il pieno sostegno alla legge Calderoli, il pieno sostegno al governo, il pieno sostegno alla legge sull'autonomia differenziata che crediamo essere un valore aggiunto che la Toscana potrà avere su alcune materie importanti. Io penso al tema della geotermia, penso al tema dei porti, penso al tema del turismo, penso al tema della cultura, una Toscana fatta piena di cultura, piena di musei, gestiti molto spesso anche dallo Stato centrale che rimangono chiusi anche in orari in cui invece magari la Toscana potrebbe garantire delle aperture ulteriori. Penso a tantissime tematiche che fanno belle alla nostra regione e che avrebbero bisogno di una gestione più vicina al cittadino, più vicina al territorio e quindi una gestione più regionale rispetto a una gestione centrale dello Stato. L'autonomia differenziata è nell'interesse dei cittadini toscani e qualora ci eleggeranno la guida di queste ragioni noi sicuramente chiederemo per tante materie l'autonomia differenziata, ma lo faremo anche quando siamo sicuri il Presidente Gianni farà ancora un ulteriore giravolta, prima era a favore dell'autonomia differenziata, poi è arrivata la SLA e c'è stato questo cambio di posizione chiaramente imposto con la nuova dirigenza del PD e sicuramente il Presidente di questa regione non potrà fare a meno che andare a chiedere l'autonomia differenziata su alcune maniere e noi saremo al suo fianco e vorremmo e pretenderemo che anche il Consiglio regionale si possa esprimere nel merito e non come fa il PD e questa sinistra ormai così allargata nella ideologia e nella gestione del potere. Terza edizione per il premio David Sassoli Il Presidente del Consiglio regionale Antonio Mazzeo e il Presidente della Commissione Politiche Europee Francesco Gazzetti insieme a membri della Commissione, il Vicepresidente Giovanni Galli, la Vicepresidente segretaria Anna Paris e i consiglieri regionali Valentina Mercanti, Fausto Merlotti e Andrea Vannucci hanno accolto a Palazzo del Pegaso i vincitori delle passate edizioni del premio Miglior Tesi di Laurea David Sassoli per un appuntamento speciale, la consegna delle pubblicazioni degli elaborati vincitori. Con loro il professor Luca Palladini, protagonista come membro della Commissione e docente all'Università per Stranieri di Siena. Nell'occasione i Presidenti Mazzeo e Gazzetti hanno presentato l'edizione 2024 del premio Miglior Tesi di Laurea David Sassoli che destina 20.000 euro in 5 premi alle migliori tesi magistrali a tema all'Europa, alle regioni cittadini, realizzate da studentesse e studenti degli Atenei Toscani. Il bando scade il 16 settembre. Lavori scritti veramente molto bene, parliamo di tesi magistrali, di un certo spessore qualitativo, che entrano nel merito degli argomenti approfondendo a un livello quasi scientifico, quindi è stato un privilegio poter leggere i lavori scritti veramente molto bene. Abbiamo purtroppo dovuto scegliere perché ci sono 5 premi in palio e non invece un numero X corrispondente alle candidature e infatti il dibattito sulle tesi da scegliere è stato lungo, articolato, ben pensato, non abbiamo lavorato velocemente. Le tesi da ora sono libri realizzati dal Consiglio regionale messi a disposizione della collettività per promuovere i valori di unità e solidarietà dell'Europa e la ricerca per il progresso comune nella memoria di David Sassoli. Insieme ad Alice Campolmi, vincitrice del primo premio dell'edizione 2022, erano presenti Jacopo Battisti, vincitore del primo premio dell'edizione 2023 e Francesco Genoni, vincitore del secondo premio ex seco dell'edizione 2023. Ho presentato la mia tesi di laurea magistrale che aveva ad oggetto la disciplina, la normativa dell'Unione Europea e la sua applicazione in Italia sul trattinamento degli stranieri. Per me è stata una grande occasione e anche un privilegio, sia proprio per la soddisfazione di vincere un premio per la propria tesi di laurea, ma anche proprio per l'opportunità che poi ha dato di visibilità grazie alla pubblicazione della tesi, anche il fatto che appunto ci sono dei professori che hanno letto la mia tesi e hanno deciso di premiarla e anche le strade che in modo anche indiretto questo premio mi ha aperto poi successivamente. L'idea di partecipare è nata un po' per caso perché ammetto che credevo non fosse la mia tesi, essendo una tesi magistrale in architettura, credevo che non fosse centrata sul tema del concorso. In realtà si è rivelato non essere così, il lavoro che ho presentato mira a studiare possibili condizioni, diciamo forme varie di violenza nello spazio di confine, in particolar modo ho studiato il sistema hotspot che è stato implementato dall'Unione Europea dopo la crisi dei migranti del 2015. Io ho scritto una tesi in diritto amministrativo europeo che si prefiggeva di osservare in che modo stessero mutando i rapporti tra amministrazione italiana e amministrazione dell'Unione, soprattutto alla luce di tutte le sollecitazioni che l'Unione sta affrontando in questi anni, in particolare la pandemia, la Covid prima e poi la guerra in Ucraina dopo. E poi appunto poter partecipare a questo premio, io avevo partecipato alla seconda edizione, quindi la prima avevo già avuto modo di vederla, di conoscere alcuni dei vincitori che erano della mia università e quindi appunto è stato prima di tutto una bella sfida partecipare e poi un onore poter vincere il premio perché insomma è una bellissima iniziativa che mi rende davvero orgoglioso di questo riconoscimento.